copriteli bene il bilo eh basta chiusa bene forza vai più piano tutto su stile basta gira intera i pugni ma anche solo coperza per il giro si coperza per i movimenti non c'era nessun corpo forza anche una coperza e gira un po' non sta fermo a me basta perché tu non sai che stai passando dai magari non ti accorgi e ti danno un calcio di solitudine quanta e viene l'angolo 45 un minuto oh atteso